Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Dogelon Mars, ma prima di iniziare vi invito come sempre iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. L'ora capitalizzazione di mercato attuale è di 475 milioni di euro. Il suo prezzo si aggira verso il 0,00000085-5233 in discesa del 3,2%. Il massimo storico è stato solamente di 4 mesi fa e come possiamo ben vedere aveva eliminato ben due zeri. Poi ovviamente ha avuto questa discesa, il minimo storico invece è stato di 10 mesi fa. Allora, lo so avete letto il titolo come Dogelon Mars può raggiungere il valore ipotetico di un euro, ma vi dico che dobbiamo soprattutto fare una rimozione veramente ampia per quanto riguarda le monete, perché le monete sono veramente tantissime. Le monete attualmente sono queste qui, questa cifra è incredibile, quindi capite bene che c'è veramente tantissimo lavoro da fare. Però prima di andare ad eliminare le monete vi faccio vedere come sarà Dogelon Mars se dovesse mai raggiungere il prezzo massimo della moneta. Andiamo qui, scriviamo Dogelon Mars, prezzo massimo nel senso che prendere la circolazione delle monete di Elon è la capitalizzazione di Bitcoin, quindi stiamo parlando di 700 miliardi e più, eccolo 824 miliardi di dollari. Dogelon Mars può arrivare a 0,001, quindi un guadagno di 1.529 per. Capite bene che con la massima capitalizzazione di mercato che c'è attualmente, ripeto attualmente, nel mondo delle criptovalute, capite bene che è impossibile anche raggiungere il centesimo. Ma noi di TopCoin Italia abbiamo fatto un calcolo, bene sì, come abbiamo fatto anche con Shiba Inu dove bisogna bruciare un tot di monete un po' per volta, vi faccio vedere il calcolo che praticamente può portare la moneta Dogelon Mars, che ripeto è sempre questo numero qui di monete disponibili in circolazione, dobbiamo far diventare questo numero come le monete restanti di Cardano, quindi capite bene che c'è veramente tantissimo lavoro a fare. Così potrà raggiungere l'euro. Ovviamente io ho già fatto tutti i calcoli, tutte le supposizioni giuste, le analisi giuste, io premetto che non pretendo che Dogelon Mars potrà raggiungere l'euro barra il centesimo e via dicendo. Questo perché? Perché vi ricordo che è sempre una shitcoin. Shitcoin non hanno un vero e proprio progetto. Dogelon Mars ha catturato l'occhio di diversi investitori solamente diciamo da una parte partendo dal nome Dogelon Mars, quindi il Doge perché giustamente i Doge nell'ultimo periodo nel mondo delle criptovalute stanno conquistando il mercato, veri Dogecoin, veri Shiba Inu. Elon che sarebbe Elon Musk, ovviamente con la sua capigliatura eccetera, ovviamente prende anche il nome da questo, e Mars sta per Marte, quindi ha fatto tre volte matching per quelli che sono i trend del momento o dell'anno del 2021, ma lo dovranno essere anche nel 2022. Dopo queste cose, dopo diverse analisi, dopo vi faccio vedere anche il mondo di Twitter che continua a twittare il Dogelon Mars, dove la spinge veramente appertutto, ad esempio qui, questo qui ha 875 dollari in Elon e vi dico onestamente che ha una community fortissima. però, ovviamente, io per quanto riguarda il mondo delle criptovalute non pretendo che può raggiungere l'euro un centesimo e vi dicendo, perché io ho investito la piccolissima cifra, lasciati lì, quando il mercato stava scendendo, quindi se dovesse mai aumentare tra un anno, due anni, tre anni, ovviamente io le holdo, e giustamente se le holdo c'è veramente tantissimo tantissimo guadagno, perché giustamente, ad esempio questa foto, vai ad eliminare diversi zeri e magari con la cifra, giustamente, che ho investito io, c'è un bel guadagno. Vi faccio un esempio. Andiamo qui su questo sito. Allora, le capitalizzazioni possibili per quanto riguarda le shitcoin, io metto per adesso la circolazione, la capitalizzazione del mercato di Dogecoin, vi faccio vedere che c'è il 36,47 per di guadagno. Quindi, se guardate, è moltiplicabile in una maniera veramente, veramente semplice, che, ripeto, la media delle top shitcoin, perché secondo me Elon lo potrà essere, ovviamente sarà spinto ancora di più quest'anno, è di 19, 15, 13 miliardi di dollari, e capite bene che c'è un 36,47 per di guadagno. Vi faccio l'esempio. Se dovete mai investire 50 euro, moltiplicate quei 50 euro per 36 volte, capite bene che c'è il rischio di guadagnare. Però, ripeto, questi qua sono solamente, manco investimenti, perché è sempre una shitcoin, ma è un modo rischioso, perché ci sono diverse monete che ogni anno o due spuntano, perché, ad esempio, Shibarino è spuntato e ha fatto guadagnare miliardi di persone, e puntualmente si vanno sempre a cercare nuove shitcoin per guadagnare. Io, onestamente, penso che Dogecoin lo potrà essere. Io do un po' di fiducia a questa moneta e praticamente ho investito un po' di soldi, non tantissimi, sono onesto, ma un pochettino. Andiamo direttamente, vi faccio vedere quanti, soprattutto le mosse che deve fare Dogecoin a Mars per farlo arrivare a un euro. La circolazione delle monete è tutto questo numero. Io sono andato a calcolare che, ad esempio, bisogna, ad esempio, acquistare 10 euro. Faccio un esempio di 10 euro in Dogecoin on Mars per un tot di volte bisogna andare a bruciare diverse monete. Io ho visto che bruciando, non vi dico il numero preciso delle monete, che è impossibile, ragazzi, però il mio calcolo è 99,9% corretto. Se si va ad acquistare 10 euro in Dogecoin on Mars, dopo un paio di operazioni, bisogna bruciarli. Ad esempio, se io vado ad acquistare 10 euro in Dogecoin on Mars, devono essere bruciati 42 volte il prezzo investito. Quindi, capite bene, che vai a acquistare 10 euro, 42 volte per un tot di tempo deve essere bruciato. Ad esempio, 10 euro, 420 euro, e così via. Giustamente è un'operazione veramente complessa. Poi, ovviamente, dipende anche dagli interessi della moneta in questione, ma bisogna andare ad acquistare questa moneta e bruciare l'altra parte, l'altra circolazione, non del vostro acquisto, ma di quelle restanti 42 volte. Facendo così, a mano a mano, per un tot di tempo e di operazioni, si potrà arrivare alla capitalizzazione, alla circolazione delle monete di Cardano. Quindi, non vi dico quante volte bisogna fare questa operazione, ragazzi, perché, guardate, questa cifra è impossibile operare e fare un calcolo, però bruciare 42 volte per un periodo di tempo, magari, ovviamente, accompagnato da diversi barn, può raggiungere 64 miliardi di monete, capite bene, che sono veramente tante, e ovviamente, guardate qui, qua sono mila, qua sono milioni, bisogna arrivare a questo numero, capite bene, che bisogna bruciare questa distante parte, è un bel casino, non so, dipende, con quante persone, veramente, vanno ad operare, a bruciare queste monete, che se no, non avrete fatto anche il calcolo corretto, esalta al 100%, ma, ragazzi, bruciare 42 volte per un tot di tempo la moneta di Dogelon Mars, giustamente, può far avvicinare questa moneta sempre di più all'euro, ma, ripeto, il mio pensiero è difficile, impossibile, ragazzi, cioè, è più facile vincere al Super Enalotto che far sì che tutto questo succeda, io, giustamente, ho fatto solamente un video, capite bene, che non... non mi aspetto che il Dogelon arriva a un euro, capite bene, che è impossibile, ok, ragazzi, per questo video è tutto, se questo video vi è piaciuto, vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale, e di attivare la campanella, per non perdervi ulteriori contenuti del genere, noi ci vediamo domani con un prossimo video, ciao, e a presto.